Ciao da Avsim, iniziamo a vedere un po' di chiarezza in questa torbida vicenda del calcio scommesse con la sanzione definitiva per Fagioli a seguito di patteggiamento e poi però c'è la vicenda Tonali oggi in prima pagina su Gazzetta Tonali ha scommesso anche sul Milan mentre era attesserato del Milan quindi situazione ben più grave ma dobbiamo parlare di gravità dei fatti, dobbiamo parlare quindi della giustizia sportiva ma non solo, dobbiamo parlare anche della situazione che si è venuta a creare e della credibilità del calcio che sembra venire meno lasciamo totalmente da parte Fabrizio Corona con le sue strategie di comunicazione poco convincenti con orari che poi magari non vengono rispettati o vengono rispettati ma il clamore che viene suscitato non viene rispettato perché si deve fare un nome e poi non si fa nessun nome o si deve raccontare chissà cosa non si racconta quasi nulla e restiamo invece e partiamo invece con un discorso che riguarda la sanzione appunto a Fagioli perché stiamo parlando di 7 mesi di squalifica che non valgono neanche 7 mesi perché in questi 7 mesi 5 li dovrà svolgere per un totale di 12 ma in realtà non sono 12 li dovrà svolgere praticamente diventando una star e cioè andando in giro a promuovere la lotta al gioco d'azzardo e la lotta alla ludopatia facendosi esempio per i ragazzi cioè lo stanno divinizzando, lo stanno mettendo su un piedistallo gli stanno dando l'opportunità di rifarsi totalmente una credibilità, una professionalità ma senza passare attraverso il pentimento, senza passare attraverso la vera punizione avrebbe avuto più senso, ora non so se in realtà questi 5 mesi dovranno essere svolti durante i 7 immagino di sì ma se anche si trattasse di 7 mesi di squalifica e poi comincia il giro praticamente dei 5 mesi a spiegare ai ragazzi che non bisogna scommettere che la ludopatia e il gioco d'azzardo sono un problema non è che cambia tantissimo perché già si decide oggi, oggi non in un futuro che prima ancora di aver finito di scontare la vera condanna che avrebbe meritato cioè almeno 12 mesi almeno 12 mesi sconfinando nella prossima stagione già si dice che lui può diventare il palladino della lotta alla ludopatia e al gioco d'azzardo e quindi lo stanno praticamente premiando lo stanno divinizzando e chiaramente parliamo di Taralucci e Vino l'abbiamo detto, lo diceva anche ieri cioè la vicenda si è chiusa come si era immaginato che si potesse chiudere senza una sanzione congrua non c'era da dare una sanzione esemplare c'era da dare una sanzione congrua se si parte da 3 anni di squalifica a minimo e si riduce a un anno e mezzo cioè del 50% perché si patteggia prima del deferimento poi per togliere altri 6 mesi che in realtà non ne hanno tolti 6 perché da 18 sono scesi a 7 quindi ne hanno tolti altri 11 perché inutile che ci si prenda in giro non sono 7 più 5 sono 7 basta di squalifica ma che tipo di attenuanti stai dando? cioè si tratta di più che dimezzare la squalifica minima, capite? cioè da un anno e mezzo al massimo si potevano concedere altri 6 mesi cioè un altro terzo di riduzione a fronte delle attenuanti e quindi si scendeva a 12 mesi ma di squalifica vera poi eventualmente aggiungi 5, 6, 12 mesi di percorso di riabilitazione che deve fare comunque nel frattempo a livello psichiatrico a livello comunque psicologico per andare in giro nelle scuole nelle scuole calcio con i ragazzi a spiegare che non si scommette bla 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 ma dopo prima lo ripulisci prima lo fai stare un anno fermo poi gli dici adesso che sei stato un anno fermo e sei anche guarito vai in giro a spiegare non in parallelo tra l'altro di quale ludopatia stiamo parlando perché in questi giorni sono stati diffuse tanti racconti su Nicolo Fagioli lui poi in queste storie Instagram ha detto vorrei partire con le scuse ma purtroppo devo partire con le precisazioni sulle tante falsità che sono circolate sul mio conto quindi vedete adesso diventa eroe cioè sembra quasi che dobbiamo scusarci con Nicolo Fagioli per quello che sta passando in questi giorni sono state scritte tante cose alcune forse sono false come dice lui e non sappiamo adesso a quali si riferisce ma è stato anche già scritto copiosamente che poverino questi ragazzi a vent'anni pieni di soldi con un telefono in mano non sanno che fare e cadono facilmente nel tunnel delle scommesse come se fosse normale e come se dovesse capitare a tutti e allora il premio giusto e meritato per chi queste cose non le fa dov'è? il premio per chi in queste cose non ci cade dov'è? la meritocrazia dov'è? stiamo a giustificare siamo già al pietismo preliminare preventivo nei confronti di una cosa grave ripeto mina la credibilità del calcio ancora di più lo fa Tonali poi c'è una serie di incongruenze e qui dovremmo parlare anche di tutto sport che ha passato mesi la passata stagione la scorsa stagione a combattere contro le veline della procura a lamentarsi della fuga di notizie a lamentarsi della violazione del segreto istruttorio o comunque delle informazioni che venivano diffuse sugli altri giornali contro la Juventus sull'inchiesta sulla Juventus ha passato altrettanti mesi a parlare della giustizia sportiva come di una giustizia non dico iniqua ma che operava in maniera discutibile cioè a discutere l'operato della giustizia sportiva ricorderete poi le prime pagine sulla carta segreta Covisoc e in quel caso la fuga di notizie però andava bene cioè che tutto sport sapesse della carta segreta Covisoc andava bene che ci fossero le intercettazioni sui giornali dopo la discovery processuale no e adesso abbiamo la prima pagina che richiama la deposizione di fagioli e nel giornale c'è l'intera praticamente integrale deposizione di fagioli a Chinè Chinè che io ricordo era oggetto quasi di sberleffo da parte di Vaciago da parte di tutto sport quando era in corso il processo sportivo allora come al solito abbiamo la dimostrazione che questi grandi paladini della giustizia nell'ambito juventino non sono paladini della giustizia sono paladini della convenienza cioè per quello che conviene a loro vanno a fare i paladini della giustizia quando invece si sta dall'altra parte si cambiano completamente i comportamenti e quindi adesso possiamo tranquillamente adesso non c'è problema che leggiamo di questa di questa deposizione deposizione che racconta di un ragazzo che lo si legge tra le righe decide deliberatamente di diventare uno scommettitore seriale decide deliberatamente perché non basta la lettura con le lacrime agli occhi con i lacrimoni povero Nicolò a me dispiace per Nicolò Fagioli ma dispiace a tutti ma non per quello che sta passando adesso per quello che ha scelto di diventare sono due cose diverse non per la pena ma per il reato non per le sanzioni e le conseguenze ma per il fatto e per l'illiceità che ha commesso per questo dispiace perché era e forse può ancora essere un calciatore forte e promettente che ha avuto uno squilibrio mentale ma dov'è la diagnosi a proposito di questa ludopatia perché si è raccontato dicevo di tutto tante situazioni poverino bla 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 ma la diagnosi di ludopatia dov'è? Sembra tanto che sia stata un po' costruita per potergli consentire anche uno sconto sulla squalifica tra l'altro sette mesi significa che tecnicamente a maggio-giugno Fagioli può tornare a giocare in partite ufficiali nel frattempo può tranquillamente allenarsi con la prima squadra eppure essendo a secco e a digiuno di partite potrebbe potenzialmente essere convocato per gli europei ora vista la sconfitta di ieri neanche si sa se l'Italia ci va agli europei potrebbe anche intervenire una decisione legata alla dignità e cioè sei indegno di partecipare agli europei anche se non sei più squalificato e vedremo anche se questo si propagerà su eventuali altre squalifiche la situazione di Tonali di cui pure parliamo è diversa però purtroppo la squalifica di Fagioli diventa esemplare in che senso nel senso che fa da modello per tutte le prossime perché è chiaro che Tonali rischia di più perché ha scommesso anche sul Milan e qui bisognerebbe aprire un altro discorso sul rischio serio che ci siano state partite truccate e sulla ripeto sul crollo della credibilità già abbastanza bassa residua del calcio italiano però comunque la base della sanzione eventuale a Tonali sono i sette mesi che non sono dodici sono i sette mesi a Fagioli ma dicevo nella deposizione a Chinee non bisogna lasciarsi trasportare dal pietismo perché nel momento in cui lui dichiara di avere già accumulato centinaia di migliaia di euro di debiti ma scusate con i contratti che hanno questi calciatori appunto si sarebbe trattato solo di una questione di tempo di una questione di tempo fermarsi completamente dire ok ho fatto troppi debiti sto esagerando adesso non scommetto più mi fermo perché così inizio a interrompere vado ad interrompere le perdite le uscite e di conseguenza i debiti e piano piano con quello che guadagno vado sicuramente a colmare vado sicuramente a ripagare questi debiti e risolvo il problema oppure invece di buttare altri soldi nelle scommesse prendere le stesse somme e metterle da parte investendole in modo da farle fruttare per accelerare il processo di pagamento dei debiti allora perché invece continua a scommettere sempre di più e dichiara addirittura 3 milioni di euro di debiti la gran parte dei quali però non andrà a pagare perché sono con queste piattaforme illegali e non può pagare cioè non può sono debiti che sono illegali e se li andassi a saldare commetterebbe altre illegalità il che però lo espone inevitabilmente a dei rischi perché è chiaro che andate a dire a questi di queste piattaforme illegali no non ti devo più pagare perché sei illegale dice ho capito ma tu però comunque per quanto riguarda il rapporto tra me e temi devi comunque pagare e illegalità chiama illegalità infatti i fagioli dice mi minacciavano eccetera ma chi lo ha spinto ad insistere chi lo ha portato a scommettere ancora anche sulle partite di calcio a varcare quella soglia che non avrebbe dovuto varcare dice no ma il ludopatico va bene scommetteva da un sacco di tempo va bene diciamo che sia questo ma non basta non basta non dobbiamo dimenticare che si tratta delle scelte deliberate di una persona adulta e matura e di un professionista che dice la juventus fin da quando eravamo nelle giovanili ci avvertiva di non scommettere neanche su piattaforme legali sul calcio perché era vietato evidentemente questo avvertimento non è bastato evidentemente la juventus non è stata in grado di comunicare bene questo messaggio perché se c'è fagioli che ha commesso queste irregolarità evidentemente su fagioli non ha funzionato è colpa della juventus è molto più colpa di nicolò fagioli è molto più colpa di nicolò fagioli però non è che uno se ne può lavare le mani dicendo noi l'abbiamo detto poi ognuno fa quello che vuole perché un conto è un'istituzione che ti mette la regola lì ti mette il codice di giustizia sportiva tu te lo leggi e se non lo rispetti sono problemi tuoi io ho fatto la legge e sta lì qui stiamo parlando di un rapporto che è stato continuativo tra una società che dovrebbe essere una delle migliori al mondo ricordiamo sempre che i giuventini ritengono ancora la juventus una delle migliori società al mondo e che c'è sempre una congiura contro la juventus perché in realtà la juventus è sempre pulita povera juventus e che di conseguenza tenendo sotto contratto per anni un calciatore e tutti gli altri avrebbe dovuto essere più persuasiva ed essere più presente in questo tipo di formazione se la si doveva fare ma poi c'è una contraddizione se vedete nella deposizione di fagioli lui dice nessuno sapeva nulla io non ho informato non ho informato minimamente la juventus di quello che stavo facendo poi però ha chiesto aiuto ad alcuni compagni per pagare determinati debiti tra cui a gatti mettendo una scusa che si trattava di altro ma allora io mi voglio anche fidare ci fidiamo del fatto che fagioli dica che non ha informato nessuno all'interno della juventus e da parte sua nessuno della juventus sapeva se qualcuno della juventus sapeva lo sospettava era perché magari l'aveva saputo da qualcun altro al di là ripeto delle date diffuse da corona se sono congrue non sono congrue non ci interessa ma qual è la contraddizione di fagioli è che nel momento in cui lui scommetteva così tanto scommetteva così tanto neanche le persone vicine a lui sembra che se ne siano accorte se siano allarmate ma per persone vicine a lui intendo appunto anche i compagni di squadra tra cui ci sarà stata pure un'amicizia lui dice addirittura io non l'ho detto a nessuno il motivo di questi debiti perché non mi fidavo di nessuno alla faccia questa mi sembra un po' una forzatura perché è credibile non mi fido di nessuno quindi non dico niente a nessuno ma non è credibile che non si fidasse di nessuno all'interno della juventus con questo non voglio mettere in dubbio che la juventus non sapesse nulla e per juventus intendo dirigenti staff calciatori insomma soggetti che avrebbero avuto l'obbligo di denunciare sto solo dicendo che la versione di fagioli non è così credibile su questo punto dove a chiedere dei soldi mi hanno bloccato mia madre mi ha bloccato il conto mia madre mi ha bloccato il conto devo comprare un orologio dammi 40.000 euro avrebbe detto così a gatti allora o gatti è un fesso con tutto il rispetto ma uno dovrebbe dire ma in che senso ti hanno bloccato il conto cioè a te hanno bloccato il conto e allora ti arriverà il prossimo stipendio della juventus e compri l'orologio e poi appunto passano i mesi ancora non ha ripagato questo debito di 40.000 euro c'è qualcos'altro sotto chiunque ci arriva che non si tratta di un debito che può dichiarare che non si tratta di orologi e si tratta di altro gli orologi che utilizzava per ripagare appunto per una questione evidentemente di non non lo so per non far circolare questi soldi per non far risultare che pagava e quindi per non per non scoprirsi poi la questione delle minacce come dice anche Corona al campo d'allenamento di conseguenza l'alimentazione su questo bisognerà semplicemente indagare ma la cosa indagare per vedere che cosa indagare per vedere che cosa eventualmente c'è perché può esserci qualcosa qualche altra irregolarità non è detto che ci sia e l'indagine serve proprio a scoprirla ma la cosa su cui si dovrà indagare e ripeto purtroppo sono le partite truccate e parlando di Tonali Tonali come dice Gazzetta ha confessato di avere scommesso anche sul Milan ieri lunga deposizione ai PM di Torino e buonanotte cioè è chiaro che Tonali poi rischia di più Fagioli ribadisce di non aver mai scommesso sulla Juventus né sulla Cremonese non ci sono prove effettivamente di puntate su queste sulle partite di queste squadre ci sono prove di puntate si parla di una partita di partite di Champions oppure di Torino Milan mi pare quindi una partita del Milan dice che scommetteva su partite anche di serie C o di serie B mentre si svolgevano cioè stava a casa e guardava le partite o seguiva gli risultati e scommetteva 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 fino ad un livello sorbitante e quindi ripeto scelta sua deliberata però dobbiamo dire una cosa che per quanto riguarda Fagioli è difficile immaginare partite truccate per quanto riguarda Fagioli al netto del fatto che la partita truccata può essere ripeto anche come abbiamo detto l'ammunizione scommetto sul fatto che io venga ammonito e mi faccio ammonire quando sto in campo non si parla di questo relativamente a Fagioli ma perché è difficile e in questo senso lo diciamo almeno questo è difficilissimo immaginare partite truccate nelle scommesse di Fagioli perché Fagioli aveva debiti le scommesse le perdeva prevalentemente le perdeva e ne perdeva sempre più di quelle che riusciva a vincere che poi è la regola è la regola quando si scommette si è già perso quanto si punta un euro hai perso un euro al 100% hai perso un euro poi forse forse può capitare che vinci qualcosa ma quello che vinci sarà sempre meno di quello che perdi sul totale delle scommesse che fai e questo bisognerebbe banalmente spiegare a chi scommette vuoi scommettere stai già perdendo hai buttato soldi quindi tieniti cari i tuoi soldi investiti in qualche altro modo se ti vuoi divertire ogni tanto ma sappi che se scommetti in maniera seriale stai buttando soldi sicuro perché è impossibile che si vada ad avere un bilancio inattivo per quanto riguarda Tonali invece è chiaro che la situazione è più grave e quando si scommette anche sulla propria squadra cioè sulle partite della propria squadra è normale che il rischio di partite truccate nel senso di alterate anche per piccoli dettagli come può essere un'ammunizione un fallo laterale un calcio d'angolo un'altra cosa non necessariamente alterare il risultato delle partite è un rischio molto alto quindi si dovrà indagare in questa direzione a margine ma per chiudere perché sinceramente questo argomento inizia a stancare soprattutto per come viene trattato appunto ci sarebbe da parlare delle dichiarazioni di Abodi e delle dichiarazioni di Gravina Gravina sembra minimizzare parlando di un problema sociale della ludopatia rispetto alla quale la FGC è lasciata sola perché cercano di sensibilizzare facendo formazione a non scommettere ma lo Stato ci guadagna un sacco di soldi Abodi invece mette un po' tutto insieme parlando di alto tradimento di questi calciatori ed è giusto un grosso tradimento nei confronti dei valori del calcio e ci dà anche chi viene pagato in nero e ci dà anche chi si dopa tutta una serie di comportamenti non solo le scommesse che rappresenterebbero un tradimento per i valori dello sport e per i valori del calcio e quindi sembra che il ministro dello sport Abodi abbia deciso di fare delle dichiarazioni un po' più roboanti delle dichiarazioni un pochino più incisive e diciamo anche controverse che tra l'altro tirano in ballo indirettamente Pogba e quindi sembrano quasi andare più contro la Juventus che contro il fenomeno in sé ben venga non perché si deve attaccare la Juventus ma perché qui mi pare che la Juventus ecco a livello di impunità quanti episodi dobbiamo citare perché per chiudere il discorso è questo per Fagioli si tratta di una sostanziale impunità o comunque di una sanzione assolutamente blanda per quanto mi riguarda ripeto ingiustificabile sotto 12 mesi effettivi ma effettivi di squalifica si tratta di una sanzione troppo blanda che non condivido e che secondo me è ingiustificabile e guarda caso 7 sono i mesi effettivi di squalifica come 718.000 sono gli euro pagati dalla Juventus in patteggiamento sulla manovra stipendi e anche lì si rischiavano decine di milioni si rischiavano ma non perché c'era l'ipotesi ma perché secondo la pena edittale secondo la pena edittale ballavano decine di milioni di euro di ammenda e invece 718.000 euro quindi evidentemente l'impunità o comunque la punizione blanda è di casa e allora che dobbiamo dire che se qualcuno dice un pochino le cose come stanno è ben gradito anche se si tratta del ministro Abodi e anche se si tratta di frasi un po' generiche e non troppo specifiche mentre c'è un gravina che continua onestamente a contraddirsi così come si contraddicono tutti i giornali che adesso parlano con pietismo di ludopatia perché basta andare su qualunque giornale qualunque portale sportivo e trovate richiami alle scommesse ai siti di scommesse ai portali di scommesse per quanto sia possibile pubblicizzarli il che che cosa ci deve portare ad essere moralisti non bisogna più scommettere no si tratta semplicemente di essere coerenti o demonizzate il fenomeno e quindi rinunciate ai vostri contratti di sponsorizzazione legati alle scommesse oppure se volete tenervi questi contratti la smettete o non iniziate proprio a parlare di ludopatia e di pietà nei confronti di questi ragazzi e parlate invece delle responsabilità oggettive di questi ragazzi ma è chiaro che in un calcio che è condizionato manipolato e contaminato dai procuratori bisogna tenersi stretti i procuratori perché se poi procuratori e dirigenti perché se poi te li vai a inimicare dicendo le cose come stanno e cioè parlando male dei loro assistiti cioè raccontando come si sono comportati e colpevolizzandoli poi magari la velina non della procura ma dei procuratori riguardo ai trasferimenti o ai rinnovi di contratto non ti arriva e purtroppo sappiamo come funziona quindi da chi vogliamo aspettarci chiarezza e onestà non da Fabrizio Corona a quanto pare ma purtroppo neanche dai giornalisti che chiarezza e onestà avrebbero dovuto praticare già molto prima affrontando questo fenomeno perché ripeto è impensabile che con questo volume tra l'altro di scommesse da parte di Fagioli nessuno ma nessuno ma nessuno sapesse nulla tranne qualche collega che scommetteva pure lui è veramente impensabile al di là del discorso Juventus sapeva non sapeva per il momento ripeto non ci sono ancora risposte ufficiali della Juventus alle accuse specifiche se non la risposta generica di settimana scorsa a borse chiuse tra l'altro rispetto al fatto di aver comunicato subito alla procura e non ci sono neanche minacce di querela per chi continua a dire la Juventus era al corrente e non ha denunciato e non ci sono ancora le date ribadisco non ci sono date che coincidano veramente con tutta quanta questa situazione tralasciamo anche il discorso poi Fagioli ha giocato o non ha giocato come segnale che Allegri lo sapeva o non lo sapeva la squadra lo sapeva o non lo sapeva perché abbiamo visto chiaramente che l'andamento nella gestione di Fagioli non è univoco rispetto a tutto questo discorso cioè se non l'avessero voluto far giocare lo avremmo visto molto più assente se invece l'avessero fatto giocare a prescindere lo avremmo visto molto più presente siccome ha giocato e non giocato in maniera secondo me senza una vera e propria regola senza un ordine preciso vuol dire che semplicemente il fatto che giocasse o non giocasse è slegato dalla eventuale consapevolezza del fenomeno da parte della dirigenza dello staff e della società chiudo e vi ringrazio per la vostra attenzione buon dibattito ancora una volta nei commenti anche sul mio server discord link in descrizione con tanti spazi per parlare speriamo presto di calcio condividete il video e mettete like se vi è piaciuto iscrivetevi attivate le notifiche a questo canale per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi e seguitemi sul mio secondo canale youtube Avsim Out raggiungibile dal primo link in descrizione dove trovate video brevi ad argomento calcio ci vediamo molto presto e senza compromessi sempre Allegri Out grazie a tutti grazie a tutti Grazie.